Poc'anzi l'ho definito come un altro spartiacque questo, perché il primo è stato quando i giornali locali l'anno scorso durante gli europei femminili hanno rimarcato il fatto che avevamo riempito gli hotel della nostra città e quindi indirettamente incidendo anche sull'economia locale. E l'altro momento particolare, guardatevi attorno, guardate in che sala siamo, le parole di elogio che per la nostra attività hanno speso sia il presidente Malagocli che il presidente Petrucci fanno venire la pelle d'oca, quindi vuol dire che il nostro lavoro è premiato anche con questi importanti riconoscimenti, questa importante attestazione di stima. Io credo che siamo ormai pronti, manca pochissimo per la palla due, adesso arriveranno anche le nazionali in ritiro, quindi ormai veramente ci siamo. Incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene, ma la macchina è rodata, è una macchina che ha un grande spirito di squadra, come ho detto poco fa, un gruppo di amici che lavora lacrimente agli ordini di un grande allenatore che è Davide Michelec.